Come è la nostra tradizione noi cerchiamo oltre che di raccontare meglio che possiamo gli eventi della Grande Guerra, cerchiamo anche di trovare dei motivi conduttori. Molte battaglie della Grande Guerra rappresentano in qualche modo un modello che possiamo analizzare che ci serve a comprendere meglio la psicologia, la tecnica, non solo quindi tattica, logistica, strategia, ma anche il sentimento della guerra che accompagna certi eventi. La battaglia di Loss viene percepita, la battaglia di Loss tanto per cominciare è un pezzetto di una battaglia molto più grande che è la terza battaglia dell'Artois ed è una battaglia in cui gli inglesi dei francesi per l'ultima volta in decisa superiorità numerica cercano di sfondare, secondo quel solito meccanismo del tagliare il collo a un'ansa, cercano di sfondare le linee tedesche, in particolar modo le linee della sesta armata tedesca che era un'armata prevalentemente bavarese, con l'ausilio di forze molto superiori, cioè la prima armata britannica e la decima armata francese. Come vedremo nella battaglia di Loss, che è una battaglia che dura poco e che si svolge in un perimetro molto ristretto, vengono commessi tutta una serie di errori, tenete presente che siamo nel settembre del 1915, quindi l'Italia è entrata in guerra da non molto, tutta una serie di errori che avrebbero dovuto, potuto e dovuto, in qualche modo mettere sull'avviso le truppe italiane su quelli che potevano essere gli inconvenienti di una battaglia condotta in un certo modo. Viceversa la battaglia di Loss, che per gli inglesi si rivela un mezzo disastro, non viene minimamente introiettata o come direbbe Dario metabolizzata dagli italiani che commettono esattamente gli stessi errori. Però io vorrei ribaltare il discorso. Vorrei dire che noi continuiamo ad autoflagellarci, non io personalmente credo nemmeno voi, ma in generale certa storiografia militare italiana, continuano ad autoflagellarsi come dire facendo dei mea culpa terribili per gli errori commessi e vorrei ricordare che gli stessi errori venivano commessi anche da altri. E nella battaglia di Loss in particolar modo le aspettative erano molto alte perché era quella che gli inglesi ritenevano essere una battaglia organizzata, preparata nel migliore dei modi, come vedremo invece così non è stato. Protagonisti della battaglia di Loss sono alcuni degli strumenti bellici che poi diventeranno di uso comune ma che qua sono utilizzati quasi a livello sperimentale. Tanto per cominciare è una delle primissime azioni in cui viene usato massicciamente il gas. Si tratta di gas di cloro, di clorina che è il gas asfissiante più comune all'inizio della guerra. Poi ne abbiamo già parlato altre volte, chi di voi ha avuto la pazienza di ascoltare altre mie conferenze, sa che poi si passerà il fosgene, quindi si passerà dai gas asfissianti ai gas vescicanti, si passerà il fosgene fino ad arrivare all'iprite che è considerato il gas più letale che è stato utilizzato nella prima guerra mondiale. Come vedremo anche questo utilizzo dei gas però, cioè questa anteprima dell'arma ritenuta più tecnologica, più moderna della prima guerra mondiale, sarà afflitto da alcuni errori che diventeranno poi a loro volta modello del tipico errore che si può fare nell'utilizzo di un attacco con gli aggressivi chimici. Nello stesso tempo si fa un largo uso nella battaglia di Loss anche per la natura del terreno. Loss è una città ancora oggi mineraria, è un terreno tutto perforato da galleria ed è un terreno molto adatto alla perforazione, così come le colline gessose che si trovano vicino a Loss nella zona della Somme di Vimy Ridge sono delle colline che si prestano molto bene allo scavo e che infatti hanno permesso durante la guerra, in particolar modo ai tedeschi, di scavare autentiche caserme sotterranee a decine di metri di profondità. Ma questo favorisce anche la guerra di Mine, tant'è che nella battaglia di Loss gli inglesi utilizzeranno questi fornelli di Mine per appoggiare il loro attacco. Attacco che come vedremo però si risolverà poi in un'azione del tutto velleitaria per un motivo che è comune sostanzialmente a tutti gli eserciti europei in quel periodo. Cioè questi eserciti si trovano di fronte a dei grovigli molto profondi di filo spinato che non sono in grado di svellere, non sono in grado di eliminare e laddove riescono ad eliminarli li eliminano soltanto in piccoli settori e questo paradossalmente peggiora le condizioni dell'attaccante perché le truppe sono costrette a convergere in questi piccoli passaggi dove vengono bersagliate con grande facilità da parte dei difensori. Quindi da una parte mi viene da dire che gli inglesi mettono in campo quella che ritengono essere la loro risorsa tecnologica maggiore, vale a dire un reggimento che non è ancora per la verità, anzi scusate una brigata, che non è ancora per la verità già una brigata ma che è stata costituita solo in alcune compagnie, che è quella dei royal engineer, gli ingegneri reali dell'esercito. Cioè una brigata specialistica del genio, priva di soldati semplici, una delle caratteristiche strane di questo reparto è che non c'era neanche un soldato semplice, il grado più basso era corporal, cioè caporale, e che si occupava di tutta una serie di azioni specialistiche che gli inglesi contavano molto nella tecnologia e nella scienza che avrebbero dovuto rendere irresistibili gli attacchi. Queste due operazioni specialistiche affidate ai royal engineer sono da una parte lo scavo di queste gallerie di mine che dovevano fare saltare i caposaldi tedeschi per la prima ondata d'attacco e dall'altra parte l'utilizzo massiccio dei cosiddetti proiettori Lievens. I proiettori Lievens, che sono molto simili ai proiettori che sono poi stati usati dal famoso battaglione chimico a Ravelnik durante l'offensiva di Caporetto, non erano dei cannoni, erano in realtà dei lanciabombole, quindi avevano una gittata piuttosto corta, con degli interruttori elettrici. Quindi con un comando elettrico si innescava questo lancio di bombole che liberavano il gas. Questi proiettori Lievens rispetto a un cannoneggiamento d'artiglieria con proiettili a gas garantiva una maggiore diffusione del gas. Ma dall'altra parte, come dire, data la vicinanza dell'obiettivo che veniva gassato con i gassatori stessi era estremamente rischioso e l'utilizzo dei gas, specialmente del gas di clorina che è un gas, come dire, meno stabile dell'iprite, l'iprite è un gas molto pesante, è una specie di rugiada, mentre la clorina è molto più volatile, bastava un cambio di vento e il gas si sarebbe trasformato in un'arma a doppio taglio. Non a caso, più avanti i battaglioni chimici, cioè quelli che si occupavano come i Royal Engineer del lancio dei gas venivano sempre affiancati da dei reparti meteorologici che dovevano garantire la direzione del vento. La caratteristica del gas era proprio questa e ne abbiamo già parlato altre volte, è proprio questa sua caratteristica di pericolosità e in un certo senso di aleatorità nell'utilizzo ha fatto sì che poi il gas non sia più stato sviluppato come arma e che nella seconda guerra mondiale, nonostante le enormi quantità di gas che gli eserciti avevano stivato nel frattempo, non viene utilizzato, si preferiscono delle armi che danno maggiori garanzie. Nella battaglia di Los, come vedremo, l'utilizzo dei gas da parte degli inglesi spesso e volentieri gli si ritorcerà contro, soprattutto per un fattore che gli inglesi non avevano minimamente calcolato, loro che pensavano di calcolare tutto, cioè il fatto che le maschere antigas, soprattutto con un clima molto umido come è il clima della regione di, quella regione di Lann, di Betan, quella regione lì, avrebbe fatto appannare gli occhiali delle maschere antigas, che non erano ancora i famosi respiratori multifase che vengono utilizzati nell'ultima parte della guerra, ma erano comunque delle maschere antigas efficaci. Si appannavano, i soldati non vedevano più niente e si levavano la maschera antigas. Quindi diciamo che questa è una cosa che non è stata calcolata e che ha comportato dei notevoli danni, insomma si calcola che circa 4.000 uomini siano stati colpiti dai gas, gran parte di loro è sopravvissuta, ma sono stati messi fuori di combattimento per quel che riguardava la battaglia. Le mine non hanno avuto i risultati sperati, in realtà l'unico attacco con le mine su quel settore di fronte che abbia veramente ottenuto dei risultati clamorosi è stato l'attacco di Messin quando circa 15.000 tedeschi sono morti nell'esplosione contemporanea di decine di fornelli di mina, lì il problema nel caso delle mine di Messin che è sempre nella zona della Somme si è rivelato dopo, nel senso che decine di queste mine sono rimaste nel sottosuolo inesplose e ancora oggi non si sa alcune dove sono, per cui è inutile che vi dica che il valore immobiliare delle case nella zona di Messin è molto basso. Negli anni 70 per un temporale uno degli esploditori elettrici di uno di questi fornelli di mina è scattato, l'unica vittima è una mucca fortunatamente, ma ha fatto un cratere di 50 metri di diametro, per cui insomma immaginate erano dei fornelli di decine di tonnellate di esplosivo, di gelatina esplosiva ognuno. Per cui insomma nel caso di Loss siamo ancora in una fase diciamo primitiva e queste mine non ottengono certamente quei risultati. Nonostante questo all'inizio della battaglia, cioè i primi due giorni della battaglia, come vedremo gli inglesi avanzano in direzione di Lens molto rapidamente, ma poi si fermeranno e si fermeranno per diversi motivi. Uno di questi motivi, non voglio anticiparvi la narrazione ma per farvi arrivare al succo della cosa, uno di questi motivi è l'utilizzo massiccio da parte dei tedeschi del tiro di infilata con le mitragliatrici. Le M. Goethe tedesche erano delle mitragliatrici molto pesanti ma molto efficaci e gli inglesi sopravvissuti alla battaglia di Loss parlano di un tiro di interdizione veramente terribile, talmente terribile che come avete visto nel titolo di questa nostra presentazione, questa battaglia è ricordata sui libri di scuola tedeschi come Die Leichenfeld von Loss, il campo di cadaveri di Loss, inutile dire che i cadaveri erano i i cadaveri britannici. Dunque all'inizio gli inglesi arrivano veloci ma hanno due problemi di fondo da un punto di vista logistico e dal punto di vista tattico. Il problema logistico è il problema che in questa fase della guerra affligge gli inglesi su tutti i fronti. Quando abbiamo parlato della battaglia di Gallipoli, forse ricorderete, chi di voi c'era, che abbiamo parlato dello scandalo delle granate, lo shell scandal che aveva travolto il governo, aveva lanciato Esquith, aveva creato un'enorme ondata di rabbia popolare in Inghilterra perché non c'erano proiettili per l'artiglieria, cioè la produzione dei proiettili di artiglieria era stata fatta non tenendo conto di quella che Wilfred Owen alla fine della guerra chiamerà la fame vorace dei cannoni. E quindi, eccolo lì, fantastico. E quindi nel bel mezzo della battaglia di Los, quando gli inglesi avrebbero più bisogno di un tiro d'artiglieria che batta i centri di fuoco tedeschi, le mitragliatrici tedesche, i proiettili non ci sono. La seconda cosa che è un errore che gli italiani facevano quasi sistematicamente era quello di non avere pensato alla preparazione di cospicue masse di riserva per appoggiare l'ultima parte, l'ultimo sforzo offensivo. E quindi quando gli inglesi stanno per vincere c'è una testimonianza di un soldato delle Irish Girls che dice eravamo arrivati praticamente a scavalcare le linee nemiche, avevamo vinto e non avevamo più proiettili d'artiglieria. L'artiglieria ha smesso di supportarci. Quindi un errore caratteristico che era quello che facevano gli italiani. Vi ricordo una delle azioni più famose compiute dai reparti d'assalto italiani, cioè la conquista del Monte San Gabriele, conquista avvenuta in maniera clamorosa e in tempi molto rapidi che viene immediatamente vanificata dal fatto che le brigate di fanteria che sarebbero dovute arrivare in riserva non sono arrivate e quindi gli arditi hanno dovuto ritirarsi. E questo succedeva con una certa frequenza. Nella battaglia di Loss accade agli inglesi, cioè gli inglesi non hanno più riserve. Io ritorno sempre al mio famoso esempio dell'attacco come un'ondata di marea. Ecco, quando quest'ondata di marea si sta esaurendo dovrebbe arrivare una seconda onda per portarla più avanti. Questa seconda onda non arriva e quindi gli inglesi sostanzialmente si devono ritirare. L'idea della battaglia è questa che vedete. Io spero si veda abbastanza bene dalla mappa. Gli inglesi si trovano sempre più a nord dei francesi. I francesi fanno due attacchi. Un attacco parallelo agli inglesi con la decima armata e un attacco invece nella Champagne, quindi nella regione che poi diventerà centrale nella guerra con la battaglia di Verdun, attaccano verso nord, cioè nel tentativo di superare l'Esne e di entrare in territorio belga. Cioè di ripercorrere sostanzialmente a ritroso il percorso che una parte delle armate tedesche avevano fatto al tempo del piano Schlieffenmolche nel 1914. Questa nel complesso che vedete è la terza battaglia dell'Artois, di cui la prima armata inglese, la vedete lì, che è quella che si trova più a nord dello schieramento, è protagonista con la battaglia di Los, con la battaglia del campo dei morti di Los. Come dicevamo, per l'ultima volta inglesi e francesi si trovano in quel settore in una netta superiorità numerica. La battaglia, oltre a dimostrare altre cose, come vedremo, dimostra che la semplice superiorità numerica in una guerra moderna significa poco o nulla. Nel senso che questo attacco che si svolgeva con due linee quasi perpendicolari, appunto in direzione di Lann, fallisce perché la massa non può niente contro le armi automatiche a tiro rapido come le mitragliatrici. Quindi nonostante l'addestramento e il valore degli inglesi, aggiungo che in questa battaglia vengono utilizzati per la prima volta i cosiddetti battaglioni Kirchner, cioè dei battaglioni che venivano da una specie di leva di massa e quindi iniziavano a contraddire la vecchia tradizione dell'esercito professionale imperiale con l'arruolamento volontario di cittadini che venivano addestrati naturalmente in una maniera più approssimativa rispetto ai reparti che erano quasi tutti passati attraverso le guerre coloniali e quindi avevano un'esperienza e un addestramento notevole. All'interno di questi soldati, di questi reparti Kirchner che naturalmente prendono il nome dal ministro della guerra, c'erano in particolare i cosiddetti battaglioni PALS, cioè dei battaglioni di volontari che erano, provenivano da un'unica zona di reclutamento e che favorivano l'arruolamento nello stesso reparto di amici. Cioè i PALS battalion, PAL vuol dire amico, vuol dire proprio sodale, nascevano da un'idea antichissima, cioè dall'idea greca della falange oplitica in cui i soldati venivano schierati per file, dove il termine file naturalmente deriva da filia che vuol dire affetto e nella falange oplitica venivano schierati dei fanti, uno vicino all'altro che erano o parenti, quindi consanguinei o amici per la pelle e questo dava loro come dire un maggiore incentivo a combattere valorosamente. I PALS battalion nascono esattamente con la stessa idea, quindi gruppi di amici generalmente che provengono dalle classi diciamo subalterne e quindi sono quasi tutti compagni di quartiere, compagni di giochi del quartiere, partono e si arruolano contemporaneamente. Quindi parte dei reparti che vengono schierati nella battaglia di Los provengono dagli arruolamenti Kirchner e quindi diciamo, non è bello dirlo però, che sono dei reparti un po' meno affidabili, un po' meno esperti, un po' meno solidi dei reggimenti tradizionali dell'esercito imperiale. L'attacco della prima armata, cioè quello che ha lasciato più segno nella battaglia, è un attacco che viene fatto con delle forze che per l'organico del BEF, cioè il British Expeditionary Force, vale a dire il corpo di spedizione inglese in Francia, era un reparto di notevolissima potenza, un reparto poderoso basato su sei divisioni con un notevolissimo appoggio di artiglierie che però come abbiamo visto a un certo punto si riveleranno inutili perché non avranno più proiettili da sparare. Il comandante della prima armata è Douglas Haig, questo bel signore che qui vedete. La battaglia prende il nome di battaglia di Los perché il suo primo obiettivo tattico è la conquista di questo paesino che vedete vicino a Lille, che è Los Angoel, che è un paese che ancora oggi ha un aspetto bizzarro perché è caratterizzato da delle piramidi di terra fatte con il materiale di scavo delle miniere. È un paese minerario ma rappresenta anche un importante snodo, questa è la ragione per cui diventa il primo obiettivo di questo movimento da ovest a est che è fatto dalla prima armata britannica. Dall'altra parte c'era la sesta armata tedesca in evidente inferiorità numerica perché si trovava a fronteggiare l'attacco congiunto di due armate e mezzo, perché c'erano i francesi che premevano da sotto, che era comandata da Ruprecht di Baviera, era composta da cinque divisioni di soldati bavaresi, ora i soldati bavaresi anche loro all'interno di quella vasta congerie di, una volta erano 251, pensate gli stati che formavano la Germania, in quella vasta congerie di stati diversi che formavano il Reich Guglielmino, non erano considerati dei soldati particolarmente brillanti, a parte la guardia del corpo bavarese che invece veniva considerato un reparto d'elite, ma per il resto i prussiani ritenevano di essere i signori della guerra all'interno del mondo germanico e quindi sia da una parte che dall'altra teoricamente ci troviamo al cospetto di reparti non particolarmente prestigiosi. Questa forza, massa d'urto di sei divisioni è talmente inusuale all'inizio della guerra che questo attacco in direzione di Loss viene chiamato dagli inglesi the big push, cioè la grande spinta, il grande assalto e effettivamente si tratta di una massa attaccante molto robusta. Non dimentichiamoci che meno di un anno dopo le masse che usciranno dalle trincee per la prima battaglia della Somme saranno enormemente più numerose, però il 1915 è ancora un anno in cui la guerra non ha sofferto di quel fenomeno di gigantismo che ha invece caratterizzato le battaglie del 1916. Qui vorrei spendere due parole su questa idea. La guerra sul fronte occidentale che come sapete è stata la più importante rispetto agli altri fronti, ma è stata anche quella in cui si sono sperimentati gli strumenti più nuovi e che poi sono passati agli altri fronti, vede un'evoluzione del concetto di battaglia campale. All'inizio della guerra prevale il sentimento ottocentesco della guerra di movimento, quindi i francesi con il loro plan di Sept in direzione dell'Alsazia e i tedeschi con quel movimento Atenaglia che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato infinite volte, che è il piano Schlieffenmolke, quindi una guerra di movimento. Quando la guerra diventa invece una guerra di posizione o meglio come amo dire io, una guerra di oscillazione all'interno di uno spazio di qualche chilometro, da una parte e dall'altra ci si sforza di trovare un sistema per scardinare il dispositivo difensivo dell'avversario. Io faccio sempre l'esempio di due castelli che si assediano a vicenda. Ecco la guerra sul fronte occidentale è un'enorme guerra d'assedio dove però si è contemporaneamente assedianti e assediati e quindi le trincee che vengono spesso e volentieri nell'immaginario viste come una specie di fossato erano un profondo sistema di caverne, gallerie, centri di fuoco, molto spesso che costringevano i soldati a una vita troglodifica e al contempo alla ricerca di armi in grado di superare i due ostacoli principali di questo tipo di guerra. Il primo è il superamento della terra di nessuno che poteva essere lunga anche chilometri e che era un terreno ormai battuto dalle artiglierie con la terra assolutamente smossa quindi un terreno anche difficile da affrontare su cui muoversi e poi il superamento dei fili spinati che rappresentano veramente un ostacolo poderoso agli sforzi d'attacco delle fanterie. Nel 1916 dopo le esperienze negative come la battaglia di Los, nel 1916 passa sul fronte occidentale un'idea della guerra che è quella che io chiamo del gigantismo, cioè l'idea è che le battaglie si vincono mettendo in campo sempre più uomini, sempre più cannoni, sempre più proiettili e insomma si vince con il peso stesso della massa. La battaglia di Verdun da una parte, da parte tedesca nel febbraio del 16 e la battaglia della Somme invece nel luglio del 16 da parte inglese dimostreranno come quest'idea del gigantismo è un'idea completamente sbagliata, cioè non soltanto con un incremento mostruoso del dispendio materiale e umano non si ottiene la vittoria ma si ottengono dei massacri terrificanti. Tenete conto che soltanto nella prima mattina dell'attacco, nella prima battaglia della Somme, la prima ondata ha perdite uguali alle perdite inglesi di tutta la battaglia di Los, che pure passa la storia come una battaglia, come una sconfitta sanguinosa. Quindi voglio dire quest'idea del rendere sempre più gigantesco l'attacco è un'idea sbagliata, si rivelerà sbagliata. Che cosa permetterà alla fine di infrangere questo equilibrio tra attaccanti e difensori? L'introduzione da una parte del dominio dell'aria, cioè nel momento in cui gli alleati domineranno il cielo avranno tutta una serie di vantaggi sul campo di battaglia e poi l'introduzione del tank. Il carro armato è l'arma che permette di attraversare, se non indenni quasi la terra di nessuno, di superare i reticolati e di avanzare. Quando dopo la battaglia di Cambrai ci si rende conto che il carro armato può essere usato anche come un'arma individuale e non come un'arma in appoggio alla fanteria e basta, non come una casa matta mobile, ma può essere anche usato come un cruiser, come un incrociatore, ecco in quel momento, in quel preciso momento la guerra cambia. Non tanto forse nella prima guerra mondiale perché quando i carri armati vengono usati su vasta scala sono ancora dei mezzi poco affidabili e tutto sommato non determinanti perché poi la guerra finisce per il blocco navale, per l'esaurimento delle risorse tedesche. Ma in proiezione il carro armato diventa l'arma del futuro e sarà l'arma determinante della seconda guerra mondiale, almeno fino alla battaglia di Kursk. Dunque dicevo il big push della battaglia di Loss è un push veramente molto piccolo se noi lo confrontiamo con gli attacchi successivi, ma per il settembre del 1915 è certamente una massa d'urto, 5 divisioni sono quasi 100.000 uomini, è una massa d'urto veramente notevole. Ruolo fondamentale, come abbiamo detto, è svolto dai Royal Engineers che non sono quello che noi intendiamo oggi normalmente per un reparto del genio. Voi sapete che i reparti del genio nella prima guerra mondiale si dividevano in zappatori, guastatori, pontieri e così via. Questo reparto non è un reparto che si occupa di questo genere di cose, ma si occupa invece di un appoggio, come dire, scientifico agli attacchi della fanteria, per mezzo di strumenti che venivano allora considerati all'avanguardia da un punto di vista scientifico e tecnologico. Le due specialità dei Royal Engineers che come abbiamo detto vengono a galla nella battaglia di Loss sono la capacità di maneggiare gli aggressivi chimici che sono ancora piuttosto primitivi, quindi i gas di cloro e dall'altra parte lo scavo di gallerie che permettano di demolire sostanzialmente, di fare crollare i centri di fuoco principali della difesa avversaria. Gli inglesi d'altronde avevano una tradizione abbastanza, come dire, antica e consolidata in questo genere di attività. Vi ricordo che nella guerra dei cent'anni gli inglesi erano molto abili nello scavare gallerie sotto le mura francesi, assediate, dare fuoco poi alle impalcature di legno che sorreggevano il tetto di queste gallerie, in modo che cadendo facessero crollare anche le mura del castello o della fortezza. È celebre un episodio in cui per fare crollare in maniera più clamorosa questa cosa, sono stati introdotti nella galleria dei maiali e poi si è dato fuoco in modo che il grasso dei maiali bruciando, alzasse la temperatura e cuocesse in un certo senso le fondamenta del castello nemico. Numerosi castelli francesi nella guerra dei cent'anni sono stati presi esattamente con questo modo, cioè non con il Malvoisenne, cioè non con le torri d'assedio, ma passando sotto. I Royal Engineers continuano, proseguono questa tradizione. Le prime compagnie di questa special brigade, per cui già nella percezione dei britannici si tratta di un reparto particolare, non è un normale reparto del genio, queste prime compagnie vengono addestrate specificamente nell'utilizzo, lì lo vedete, di queste bombole di gas con questi proiettori Levens, che erano fondamentalmente della specie di mortaioni, per lanciare i gas e l'utilizzo dei primi lanciafiamme. I primi lanciafiamme che non erano ancora armi portatili, erano ancora molto grossi, avevano una lancia in rame e di solito venivano utilizzati quando le trincee erano vicine in modo da poter colpire con il getto infiammato le trincee avversarie. Soltanto più avanti verranno creati i lanciafiamme portatili, quelli con le famose due bombole sulla schiena del geniere lanciafiamme e anche gli italiani impareranno questa cosa, perché sulle pipe del genio metteranno un drago che sputta fuoco e creeranno i primi reparti lanciafiamme, di cui una memoria molto interessante ci viene lasciata da Paolo Caccia Dominioni, che inizia la sua guerra come geniere pontiere, ma poi passerà dopo la morte del fratello Cino, passerà ai lanciafiamme e racconterà nel suo diario di guerra, 1915-1919, racconterà appunto dell'utilizzo di queste armi che venivano a tutti gli effetti equiparate ai reparti d'assalto. Cioè i reparti del genio lanciafiamme erano considerati a tutti gli effetti reparti d'assalto e in Italia avevano anche la caratteristica della divisa della giubba simile a quella degli armi. Questi sono i proiettori Livens, come vedete venivano interrati, venivano caricati con queste bombole e poi per mezzo di un esploditore elettrico lanciavano queste bombole di gas che si aprivano e liberavano appunto un gas di cloro. Come vi ho detto il gas di cloro fra tutti gli aggressivi chimici utilizzati nella prima guerra mondiale era il più inaffidabile perché era il più volatile, era quello insomma che era più soggetto, veniva annichilito dalla pioggia, veniva spostato facilmente dal vento e così via. Tuttavia altro non c'era allora per cui la clorina era l'elemento chiave di questo attacco. Oltretutto i Royal Engineers scavarono un enorme numero di gallerie di mina che fecero esplodere, non tutte perché anche lì ci sono state molte cilecche al momento dell'attacco. Vedete si tratta di una roccia bianca molto gessosa che permetteva uno scavo abbastanza agevole. I preparativi fatti dagli inglesi, le aspettative degli inglesi, quindi il sentimento di questa battaglia da parte degli inglesi era un sentimento di sicurezza, gli inglesi si sentivano ben preparati, la presenza dei Royal Engineers che erano circondati da un alone di mistero e al tempo stesso di britannica efficienza faceva sì che gli attaccanti si sentissero molto sicuri di sé. Era un settore in cui gli inglesi fin dal tempo della battaglia di Mons tutto sommato le avevano solo prese per cui la battaglia di Los diventa direi quasi anche un'occasione di riscatto, per cui l'entusiasmo, il morale degli attaccanti era certamente un morale alto. Era un morale alto anche in parte per la presenza di questi reparti Kirchner che come vi dicevo erano dei reparti che raccoglievano anche adesioni volontarie dalle città e quindi molti di questi soldati erano animati un po' da quello spirito del 1915 che noi troviamo nei volontari italiani sul fronte dell'Isonzo e in particolar modo gli ufficiali di complemento. Alle 5.30 del 25 settembre, cioè 40 minuti prima che l'attacco vero e proprio avesse inizio, vengono lanciate 5.500 bombole di cloro sulle linee tedesche, parte di queste bombole di cloro non vengono proprio lanciate perché gli esploditori si sono congelati, c'era brutto tempo, faceva freddo e quindi non scattano. Altre di queste cadono troppo vicino alle linee inglesi e il gas colpisce le stesse truppe attaccanti, parte di queste invece arrivano sul bersaglio ma con dei risultati che non rispondono alle aspettative. Credo, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che il numero di gassati fra gli inglesi e i tedeschi sia quasi pari, per cui il vantaggio di un attacco con aggressivi chimici appare molto relativo. In questo attacco che abbiamo detto supportato da, questo qua è un attacco tedesco, però vuole rendere l'idea un po' di quanto è caotico un attacco, supportato dai gas, supportato dalle mine, supportato dei primi lanciafiamme, ma questo attacco da un punto di vista tattico e da un punto di vista logistico, tattico l'assalto frontale, logistico il rifornimento di munizioni è carente. Questo causerà quel macello per cui i tedeschi parleranno di Leichenfeld von Lohs e a un certo punto si verificeranno episodi in cui i mitraglieri tedeschi smetteranno di sparare perché così, non so se avete visto quel brutto film Uomini contro in cui a un certo punto si vedono gli austrecci che smettono di sparare sugli italiani, ecco episodi così sono episodi che sono avvenuti durante tutte le battaglie della guerra quando ci si trovava davanti a una massa di fanteria che veniva avanti e li buttavi giù come birilli, è un sentimento anche questo che si è sviluppato proprio durante la guerra, credo che gli unici che non lo abbiano provato erano i mitraglieri turchi nella battaglia di Gallipoli che notoriamente appena gli australiani tiravano sulla testa dalle loro trincee, anche a questo proposito c'è un bellissimo film, Gli anni spezzati, che mostra proprio l'attacco, non mi ricordo se a Suvla, ma comunque fa vedere questi australiani che vanno avanti e si fa macellare. Su tutti i fronti, ahimè, da una parte c'era il tentativo di rendere la guerra più scientifica, di rendere la guerra più intelligente ammesso che la guerra sia qualcosa di intelligente e dall'altra parte si commettevano degli errori legati veramente a una visione molto antiquata e tradizionale del combattimento. La tecnica e la tecnologia hanno prodotto dei cambiamenti tali che certi atteggiamenti tattici che potevano funzionare al tempo dei fucili a canna liscia e ad avancarica erano del tutto improponibili al tempo delle armi automatiche. Abbiamo detto prima, l'uso dei gas si è rivelato il primo elemento controproducente dell'attacco britannico a Loss, perché spesso queste maschere non funzionavano, perché come vi ho detto si appannavano gli occhiali e quindi i soldati se li allevavano, gli inglesi hanno perso circa 2.500 uomini, quindi diciamo quasi l'equivalente di due battaglioni che sono delle perdite notevoli. Nonostante questo nel pomeriggio del 25 settembre il quarto corpo d'armata britannico superò la cittadina di Loss, cioè il suo primo obiettivo e puntò verso Lann, che è una città molto più grande e molto più importante. Lo vedete qua, queste sono le divisioni britanniche che avanzano in direzione di Lann, ma proprio quando questi reparti stavano per vincere, lo ripeto, viene meno il supporto dell'artiglieria, cioè le artiglierie sparano un numero di proiettili non sufficiente. Il primo corpo d'armata che doveva affiancare la punta d'attacco avanza più lentamente, quindi si sbilancia, si crea una sorta di sbilanciamento tattico tra i due corpi d'armata inglesi, tre divisioni e tre divisioni che stanno avanzando e contemporaneamente lo shell scandal colpisce, come aveva colpito Gallipoli, colpisce anche la battaglia di Loss. Non fatevi ingannare da questa immagine in cui si vedono queste pile di proiettili e che quindi dà l'idea di una straordinaria ricchezza di proiettili, in realtà i cannoni consumavano, i cannoni a tiro rapido consumavano proiettili a una velocità spaventosa e per sostenere un bombardamento del genere altro che è questo. Tenete conto che il bombardamento preliminare della battaglia della Somme è costato, preliminare quindi non durante la battaglia, è costato agli inglesi 9 milioni di proiettili, 9 milioni. All'inizio della guerra 9 milioni di proiettili erano più dell'intero arsenale di un esercito, per cui insomma i cannoni consumavano proiettili a una velocità folle e d'altronde il cannone era l'arma simbolo di questa guerra, la prima guerra mondiale è stata una guerra fondamentalmente di artiglierie e quindi credo che non attrezzarsi dal punto di vista del rifornimento dei proiettili d'artiglieria sia stato un errore molto grave. Anche i reticolati vengono distrutti solo parzialmente e quindi come dicevamo si trasformano in altrettante trappole per le truppe attaccanti. Anche qui apriamo una piccola parentesi, facciamo un piccolo boxino. Fin dall'inizio della guerra ci si pone la questione del superamento di queste masse di reticolati che come vedete non sono un reticolato ma sono matasse intere a volte profonde 10 metri che venivano ancorate al terreno per mezzo di pali di legno o più spesso di picchetti di metallo, il famoso picchetto a coda di porco austriaco che affolla i nostri musei nell'esempio più tipico. Questi picchetti venivano avvitati nel terreno o piantati nel terreno con il picco e poi era molto difficile svellerli perché i cavalli di Frisia erano spostabili, erano utilizzati di solito dove c'erano i varchi per far uscire gli attacchi della fanteria. Ma mentre il cavallo di Frisia per la sua stessa natura era spostabile, questo tipo di reticolati non lo era e quindi da subito sorge il problema di come superare i reticolati. All'inizio su tutti i fronti si utilizzano delle apposite tenaglie per tagliare i reticolati, però oltre a essere un'operazione praticamente suicida per chi andava a tagliare questi reticolati. Gli italiani poi hanno sperimentato il famoso elmo farina e la corazza farina che dovevano proteggere i generi che tagliavano i reticolati ma in realtà venivano facilmente bucati dai proiettili. Poi si è passati ai tubi bangalore, cioè ai tubi di esplosivo che venivano inseriti sotto il reticolato ed esplodendo dovevano aprire i varchi, ma neanche i tubi bangalore erano in grado di svellere veramente i reticolati. La prima arma veramente efficace contro i reticolati viene utilizzata nella Sesta Battaglia dell'Isonzo nell'agosto del 1916 ed è la bombarda. La bombarda è invenzione del genio italiano perché gli italiani sono bravissimi, geniali anzi ad arrangiarsi quando hanno poco o niente. Gli italiani erano certamente inferiori quantitativamente e qualitativamente rispetto ai loro avversari sul versante delle artiglierie medio pesanti, cioè quelle che venivano normalmente utilizzate per distruggere i reticolati e allora si sono inventati un'arma poco costosa, molto semplice da fabbricare, un'arma a canna liscia, quindi un ritorno alle origini, che è appunto la bombarda, che è una specie di mortaio che lancia dei proiettili, a volte anche pesanti centinaia di chili, che rispetto a un proiettile d'artiglieria hanno un vantaggio enorme. Cioè siccome la bombarda non ha una carica di lancio potente come un cannone e quindi non necessita di una camicia del proiettile troppo spessa, troppo resistente perché non deve resistere a uno sforzo tanto forte, la parte di esplosivo del proiettile, era molto maggiore rispetto alla parte di esplosivo in un proiettile d'artiglieria. Cioè un proiettile d'artiglieria che pesasse cento chili, facciamo per esempio, conteneva venti chili di esplosivo, tutto il resto era camicia, era proiettile, era ferro. Il proiettile della bombarda invece è molto simile ai proiettili, scusate, alle bombe d'aereo che non hanno, non devono vincere nessun'altra forza che la forza di gravità, cadono perpendicolarmente e quindi non hanno bisogno di camicie particolarmente spesse. Quindi la bombarda porta molto esplosivo rispetto al calibro del pezzo e lo spara a una distanza breve, le più grosse bombarde italiane, quelle da 400 mm, avevano circa 2 km di tiro utile, quindi molto meno di un cannone da 400 mm che aveva decine di chilometri di portata e cadevano verticalmente. Quindi una grande massa di esplosivo che cadeva verticalmente sul reticolato, cadendo verticalmente riusciva a sradicare questi paletti da terra, faceva dei botti terribili e nel caso della Sesta Battaglia dell'Isonzo, in particolar modo della presa del Sabotino, questo sistema si è rivelato un ottimo sistema. Ahimè per gli inglesi nel settembre del 1915 non c'è niente del genere, non ci sono neanche i mortai Stokes che sono la versione riveduta e corretta delle nostre bombarde e quindi gli inglesi o si trovano davanti un reticolato intatto o si trovano davanti dei varchi piuttosto stretti in cui si infilano e vengono bersagliati dalle mitragliatrici tedesche. Mitragliatrici tedesche che erano un'arma estremamente efficace, erano ancora la vecchia mitragliatrice pesante a tre piedi, cioè un'arma che pesava più di 50 kg, ma che è utilizzata non per le truppe d'attacco, non per le truppe d'assalto come nel caso di Caporetto, a Caporetto i tedeschi usano la versione leggera della MG, qui vedete è quell'arma che per l'apparato che le sta intorno e a tutti gli effetti un pezzo d'artiglieria, cioè ha un tiratore, ha un servente che la rifornisce, ha due portatori di cassette di munizioni che portano anche il bidoncino del liquido refrigerante perché praticamente tutte le mitragliatrici della prima guerra mondiale sono raffreddate a liquido, cioè hanno come vedete questo manicotto al cui interno c'è un liquido refrigerante collegato appunto a questo bidoncino e la canna è immersa in questo liquido refrigerante. Col passare del tempo e con la necessità di alleggerire le armi automatiche diventeranno quasi sempre poi delle armi invece raffreddate ad aria come la Maria Grazia, cioè l'MG che abbiamo usato noi da militare e che ha origine nel CUP, da un'arma tedesca del 39-42 che è la mitragliatrice tipo della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale. Il 28 settembre, quindi soltanto tre giorni dopo, l'attacco inglese si arena. Come abbiamo detto all'inizio, cioè nel pomeriggio del 25 settembre, sembra che i reparti attaccanti possano sfondare e dirigere sul Lann, quindi ottenere se non altro una vittoria tattica, viceversa vengono bloccati, vengono sottoposti a questo tiro terribile e come vediamo nasce questa leggenda, una delle molte leggende che accompagnano le battaglie della prima guerra mondiale, cioè la leggenda, che non è una leggenda purtroppo, insomma, del campo dei morti di Loss. Questo perché di fronte alle linee tedesche il terreno appare letteralmente cosparso dei cadaveri degli inglesi che sono stati falciati durante l'attacco. A loro volta i tedeschi non si accontentano, riprendo l'esempio della marea che poi si ritira e quindi qualche giorno dopo contrattaccando riconquistano la ridotta Ohenzollern, si chiamava così, la ridotta Ohenzollern, era un vasto centro di fuoco che era stato conquistato dagli inglesi e che aveva dato agli inglesi la sensazione di vincere, cioè la conquista della ridotta Ohenzollern aveva dato agli inglesi l'impressione che la battaglia svoltasse a loro favore. I tedeschi la riconquistano ma dopo non riescono nemmeno loro a progredire ulteriormente per via delle perdite, cioè il gioco si è ribaltato, gli inglesi si sono trincerati, i tedeschi vengono avanti in un terreno che come abbiamo detto è un terreno aperto e quindi a loro volta subiscono delle perdite pesanti, perdite pesanti che comunque non sono assolutamente paragonabili alle perdite degli inglesi. Tanto è vero che le perdite inglesi sono di circa 60.000 uomini mentre i tedeschi ne perdono circa 25.000. Ora è evidente che nel computo di una guerra come la prima guerra mondiale non è corretto dire chi ha vinto o chi ha perso in base al numero di perdite subite, perché se un esercito subisce un enorme numero di perdite ma riesce a ottenere una vittoria strategica, tuttavia il dato visto che nel caso della battaglia di Loss e nel caso di molte altre battaglie in quel settore, cioè nel settore fra la Picardia francese e le Ardenne belghe, il fatto che si sia rimasti poi dopo la battaglia praticamente sulle posizioni di partenza e che il numero di perdite inglesi sia significativamente superiore a quello dei tedeschi ci fa dire che Loss è stato un successo tattico tedesco e una sconfitta britannica. Veniamo all'ultimo aspetto della battaglia, cioè i caduti illustri. Quest'immagine che vedete è un'immagine della cosiddetta cappella dei poeti nella cattedrale di Westminster. Molti sono i poeti inglesi che partecipano alla prima guerra mondiale, tanto che Wilfred Owen, che probabilmente è il più famoso e il più bravo di questi poeti britannici, parlerà di doomed generation, la generazione predestinata. In realtà la partecipazione di questi poeti quasi tutti di tradizione accademica, quindi quasi tutti provenienti dalle public school o dai collegi inglesi, è dovuta al fatto che esattamente come in Italia i giovani della borghesia erano quelli che forse sentivano più forte il richiamo patriotico e volontaristico. I nostri ufficiali di complemento del 1915 avevano una fortissima componente patriotica che li ha portati a farsi ammazzare un po' stupidamente, tant'è che nel 1915 le perdite degli ufficiali di complemento erano proporzionalmente molto più grandi di quale dei soldati semplici. Gli inglesi partecipano e vorrei spendere due parole su questo fenomeno perché è un fenomeno di cui mi sono occupato e ho in un cassetto un libro che spero prima o poi di dare alle stampe proprio sui poeti di guerra. Questi poeti inglesi avevano un atteggiamento nei confronti della guerra che era un atteggiamento veramente particolare perché noi siamo abituati ai nostri poeti di guerra, Clemente Erebora, Van Nantoo, Ungaretti, in cui la guerra è descritta soprattutto nella sua alienazione e nel suo orrore. In particolar modo Erebora descrive crudamente gli orrori della guerra. I poeti inglesi invece, molti poeti inglesi in guerra, si perdono nella contemplazione della natura, cioè si portano dietro la tradizione oxoniana proprio di una poesia naturalistica e allora scrivono delle allodole che coraggiosamente corrono nel cielo, nel momento che forse è l'unico momento di tregua perché di notte si lavora e di giorno si sta rintanati sotto il bombardamento, che è il passaggio fra la sera e la notte e fra l'alba e il giorno e descrivono queste albe formidabili, non potendo poi descrivere dei gran paesaggi perché non possono guardare molto al di là, ma c'è questa linea dietro cui ci sono le trincee avversarie che rappresenta qualche cosa di misterioso, di magicamente misterioso e quindi la lettura dei poeti di guerra britannici è un'esperienza molto diversa e per certi versi illuminante circa la mentalità con cui gli inglesi affrontavano la guerra, l'episodio del calciare il pallone verso la trinciare nemica all'inizio dell'attacco, cioè gli inglesi avevano da una parte poi la perdono, poi nel 1917 lo perdono, ma all'inizio della guerra hanno da una parte l'idea del fair play, cioè gioca pulito e dall'altra parte hanno ancora l'idea, anche perché i paesaggi non sono ancora così spaventosamente lunari, hanno anche l'idea della natura, della natura che nonostante tutto, nonostante la guerra, procede con i suoi cicli. Va detto anche che gli inglesi erano in una situazione logisticamente molto particolare perché nei punti più esposti del loro fronte, vale a dire nel saliente di Ypres, qua nel settore della Somme, potevano in 24 ore ricevere un pacco da Londra con dentro, faccio per dire, un plan cake e mangiarselo in trincea. Cioè c'era, e ne ho già parlato altre volte, mi scuso se mi ripeto, c'era da una parte un'idea fortissima di alienazione e di estraneità alla vita normale, cioè tu eri in una specie di bolla che era la tua trincea, la trincea del nemico, la terra di nessuno, con dei cicli, una vita sotterranea prevalentemente diversa da qualunque altra cosa, ma contemporaneamente percepivi di essere vicinissimo alla vita normale. Per cui non era un caso isolato quello di un ufficiale, di solito gli ufficiali perché erano quelli che naturalmente avevano più possibilità, che si facesse mandare il padding da casa per festeggiare il suo compleanno con i propri colleghi. Per cui un mondo veramente particolare. I poeti partecipano alla guerra, molti muoiono, qualcuno, Sigfrid Sassoon è il più famoso forse, tornano a casa, ma certamente scrivono delle pagine eccezionali sulla guerra, delle pagine che delle volte riescono a restituire il sentimento di quella guerra in maniera enormemente più chiara e più efficace di quanto possa fare un poveraccio come me che cerca di spiegarla. Ecco, ci sono delle cose della guerra che non si riescono a spiegare, ma che la poesia attraverso il suo miracolo riesce a fare percepire. Un poeta noto, già noto prima della guerra perché aveva pubblicato all'inizio degli anni dieci le sue poesie più famose, che è Soleil, capitano, morirà il 28, data giorno orribile della battaglia di Los, è lo stesso giorno in cui morirà il figlio di Kipling, muore il 28 di settembre e verrà appunto ricordato nella cappella dei poeti di Westminster. Questo è C. H. Soley, come vedete all'aspetto di un giovanotto imberbe in realtà era già capitano perché poi soprattutto all'inizio della guerra si faceva carriera molto in fretta perché c'era un turnover piuttosto robusto. Ma sicuramente il personaggio più noto caduto nella battaglia di Los e ne parlavamo prima e l'ho scoperto adesso io perché mi è stato detto Dario, il cui corpo è stato ritrovato non molto tempo fa e riconosciuto per mezzo del DNA è John Kipling. John Kipling, figlio di Rudyard Kipling, che era allora il più famoso poeta britannico, il primo premio Nobel a uno scrittore britannico. Oltretutto Dario Kipling era il cantore dell'impero, lui proveniva dall'esperienza coloniale, i suoi romanzi più famosi, Lord Jim piuttosto che il libro della giungla, sono ambientati nell'impero britannico ed era anche un fortissimo sostenitore dell'imperialismo britannico e intimo amico praticamente di tutti i vertici militari dell'esercito inglese. Per questo motivo quando il suo figlio John che in questa fotografia appare senza occhiali ma che aveva dei grossi problemi di miopia viene scartato dalla Royal Navy, Rudyard Kipling fa il diavolo a quattro affinché venga arruolato nell'esercito e come dire spinge per avere delle raccomandazioni alla rovescia. Oggi uno fa, oggi no perché ahimè è stata sospesa la leva, ma una volta uno faceva il diavolo a quattro perché il proprio figlio non andasse a fare il militare, non è stato certamente il caso dei miei genitori ma insomma ci sono stati casi analoghi, ecco Kipling invece ha fatto il diavolo a quattro perché suo figlio che non doveva andare a fare il militare per questo limite evidente della vista andasse a fare il militare, infatti John Kipling viene arruolato come sottotenente negli Irish Guards che adonta del nome le guardie irlandesi sono invece un reparto dell'esercito inglese. John Kipling arriva, viene fortunatissimo il giovanotto, arriva al fronte una settimana prima dello scoppio della battaglia di Lossi e viene scaraventato dal niente alla battaglia di Lossi, probabilmente si perde perché con gli occhiali e l'umidità fa lo stesso effetto della maschera antigas, la sua morte viene ricostruita in una maniera che io trovo non so se realistica ma certamente convincente in un film prodotto dalla BBC che si diceva My Boy Jack che è il titolo, lo vedremo, di una famosissima poesia di guerra scritta da Kipling dedicata non al figlio ma a un caduto della guerra e c'è la storia di John Kipling, della sua partenza e della sua morte. La curiosità è che John Kipling è interpretato dall'attore che fa Harry Potter, è lo stesso attore, per cui voi vedete Harry Potter con i baffetti in divisa da sottotenente degli Irish Girls che viene centrato da una raffica di mitragliatrice e finalmente ci tagliamo dalle palle Harry Potter, è un momento di straordinaria gioia cinematografica, quella in cui si vede Harry Potter crivellato di colpi di mitragliatrice. Questo è il testo della poesia, la poesia che probabilmente in origine è dedicata come idea a un marinaio perché ricorre il not this time, non a questa marea, è un padre che domanda a chi torna notizia del proprio figlio, My Boy Jack e gli viene risposto non ci sono notizie, non a questa marea, neanche alla prossima marea e a nessuna marea, a nessun vento che possa soffiare. Immagino che Radio Kipling, nonostante il suo carattere piuttosto ferrigno, abbia incassato il colpo, ha fatto il diavolo a quattro per mandare il figlio alla guerra, il figlio è morto, non solo è morto, è sparito e non è più stato trovato fino a qualche anno fa, la moglie di Kipling gli ha montato un cinema infinito, naturalmente su questa cosa e la stessa arte di Kipling da quel momento in poi diventa diversa, cioè Kipling che era sempre stato un vitalista e fondamentalmente un ottimista, cioè uno che pensava che il buono vince sempre, l'eroe se la cava sempre, comincia a diventare più acido, più meditativo, la sua scrittura diventa più aspra, insomma diventa un altro uomo e vorrei anche vedere avendo il figlio sulla coscienza. Alla fine della guerra, proprio in virtù delle sue numerose conoscenze, Kipling si farà mettere quello che in Italia era il commissariato per le onoranze ai caduti di guerra, in inglese aveva un altro nome, ma si fa mettere in quel gruppo di ricerca lì e si fa mandare a Loss per cercare fra le varie sepolture quella del figlio. Come dicevamo invece il corpo di John Kipling viene trovato soltanto mi pare nel 2014 e viene riconosciuto per mezzo dell'esame del DNA, per cui viene, mentre prima era sepolto in una tomba di un ignoto, di un senza nome, poi invece verrà sepolto in una tomba con una lapide con scritto John Kipling, secondo tenente degli Irish Guards. Ecco, l'ultima parte di questa mia chiacchierata con voi io la vorrei dedicare alle particolarità di questa guerra, che è una guerra che assume veramente dei caratteri che non si erano mai visti prima e che segneranno almeno due generazioni di europei. La prima cosa su cui vi invito a una riflessione è la somiglianza fortissima nella psicologia globale della gente, nella psicologia popolare, tra il periodo che precede lo scoppio della prima guerra mondiale e il periodo in cui viviamo noi. Il periodo in cui viviamo noi è un periodo in cui in Europa fatte salve alcune guerre che definirei periferiche, anche se non sono state a mio parere periferiche, ma che così sono state percepite, vale a dire la guerra civile Jugoslava, la guerra di Bosnia e adesso la guerra in Ucraina, è stato un periodo di pace. Cioè fondamentalmente la presenza negli arsenali mondiali di armi come non erano mai esistite prima diventa una garanzia per la pace perché è una sorta di deterrente reciproco l'arsenale militare. Poi quando con Saliut 1 e 2 questo arsenale viene smantellato ormai, ma la gente, la gente che non si occupa di queste cose, ha la sensazione che la guerra non esista, che la guerra sia qualcosa di estremamente remoto. è precisamente la stessa sensazione che vivevano gli europei nel 1914. Cioè dopo 35 anni, no 45 anni di pace, dalla guerra franco-prussiana che era stata l'ultima guerra centrale in Europa allo scoppio della prima guerra mondiale, c'erano state solo guarda caso delle guerre che definivano anche allora periferiche, cioè le guerre balcaniche, che venivano viste in un mondo remoto. Nonostante che la Serbia, la Bulgaria, l'impero ottomano fossero vicinissime, gomito a gomito con l'Europa, anzi facessero parte dell'Europa, sia pure non del centro dell'Europa, queste guerre venivano viste come qualcosa di esotico, di lontano. Pensate a Zantumtum di Marinetti quando descrive la battaglia di Adrianopoli, che diventa qualcosa di quasi folcloristico nelle sue tavole parolive. La guerra non c'è, non può scoppiare una guerra. Ormai noi siamo talmente evoluti, talmente civili, che la guerra non ci può essere. Ne si è talmente convinti che questo periodo storico prende il nome di Belle Epoque. Prende il nome di Belle Epoque, badate, non quando scoppia la guerra e quindi uno rimpiange la pace e dice ah che Belle Epoque, no, si chiama Belle Epoque durante la Belle Epoque, cioè c'è la coscienza di vivere in un periodo fortunato, felice e sembra che questa fortuna e questa felicità, queste grandi feste al Bois de Boulogne, questi balli nei palazzi viennesi, non debba mai finire. La guerra, la prima guerra mondiale, cioè uno dei conflitti più terribili della storia dell'umanità, scoppia in 15 giorni. Cioè in 15 giorni, fra il 28 di luglio del 1914 e il 10 di agosto del 1914, tutti i paesi d'Europa pressoché, tranne noi e pochi altri, entrano in guerra. Cioè in 15 giorni l'Europa passa dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale. È uno shock spaventoso. Ed è questo il motivo per cui la prima guerra mondiale rappresenta un unicum nell'immaginario collettivo. Per cui nonostante che sia stata seguita da una guerra enormemente più grande, la grande guerra è la prima guerra mondiale. Perché è venuta inaspettata, nonostante che se noi oggi studiamo il periodo cosiddetto della crisi di luglio, al diavolo l'inaspettatezza, cioè c'erano tutti gli elementi per dire scoppierà una guerra, ma allora era inaspettata, veniva considerata qualcosa di assolutamente improbabile. Pensate che soltanto quattro anni dopo ci sarà chi postulerà filosoficamente l'idea che la condizione normale dell'uomo sia la guerra e che la pace sia soltanto un incidente di percorso. Cioè in pratica l'idea della guerra eterna, della ur-guerra. Questo per dirvi come la prima guerra mondiale ha radicalmente modificato la percezione non solo della guerra, ma della pace, della vita, della politica dell'intera Europa. Cioè dopo la prima guerra mondiale i parametri, i paradigmi erano completamente diversi rispetto a quelli della Belle Epoque, che lascerà in moltissimi europei che sono passati attraverso le due esperienze una nostalgia terribile. Mi viene in mente una pagina di un libro bellissimo di uno scrittore giornalista francese che si chiama Jean Dormesson, che non ha vissuto certamente la prima guerra mondiale perché è ancora vivo, intitolato Au plaisir de a Dio piacendo. Dove lui fa dire a suo nonno, che è un principe francese, che rimpianto per il periodo in cui un'Europa, un gentiluomo poteva viaggiare semplicemente esibendo il suo biglietto da visita. Ecco, qui credo si sintetizzi l'idea della Belle Epoque. Un'epoca frivola, elegante, di divertimenti, di piacere, ma anche di assoluta incapacità di comprendere la realtà delle cose, di assoluta, come posso dire, sventatezza. Ecco, la Belle Epoque è stato un periodo storicamente di sventatezza, in cui tutti si preparavano alla guerra perché contemporaneamente, mentre a Palazzo Parravicini a Vienna, al Bois de Boulogne a Parigi si ballava, si festeggiava, si godeva della pace, nascevano le nuove armi. Quelle nuove armi che abbiamo detto sono state utilizzate nella battaglia di Los e non solo. Le grandi potenze europee stavano costruendo a ciclo continuo navi da battaglia sempre più potenti. Nel 1906 viene prodotta in Inghilterra, la Dreadnought, la prima Dreadnought, adesso siamo alla quinta Dreadnought, che è la prima nave da battaglia moderna e che rende di colpo obsolete tutte le navi da battaglia che vengono chiamate oggi pre-Dreadnought. E allora tutti a costruire navi sul modello della Dreadnought, cioè armi, cannoni monocalibro, turbine al posto delle caldaie a vapore e così via. Il mondo non si rendeva conto, tranne quelli che ci lavoravano dentro, vale a dire i costruttori di armi fondamentalmente e i generali, cioè i produttori e i consumatori. Ora se c'è una regola, come dire, che le guerre ci confermano è che nel momento in cui i soldati hanno un'arma la usano, non c'è niente da fare. La ragione per cui non c'è stato un olocausto nucleare è che l'hanno usata, hanno visto come funzionava e hanno detto, vabbè ragazzi, ma l'hanno usata prima. E durante la guerra di Corea la proposta americana era stata quella di lanciare ancora le bombe atomiche sui cinesi. Immaginatevi che bel pasticcio ne sarebbe venuto fuori. McArthur, quel illuminato pacifista di McArthur, ha detto, i cinesi li spianiamo con le bombe atomiche. Fortunatamente non è passata questa linea. Però, ripeto, ma è normale che sia così. Cioè se tu fai una guerra totale, come è stata la prima guerra mondiale, se hai delle armi le usi. Non c'è ragione di non usarle. Con buona pace, appunto, della bella epoca e di tutto il resto. Dunque, la prima cosa, diciamo, ad appendice a questa chiacchierata sulla battaglia di Loss è quella di come questa guerra abbia rappresentato qualcosa di inaspettato. La seconda cosa che va di pari passo con questa è che in quella guerra, e mi viene da dire anche in guerre successive, la tecnologia militare, questa è una mia fissa che ripeto sempre, la tecnologia militare non va di pari passo con la scienza militare. Cioè, chi deve usare il giocattolo lo usa spesso in maniera impropria, inopportuna, lo usa male. Cioè, l'industria e la scienza creano delle armi sempre più potenti. Coloro i quali le devono usare non sempre le usano in maniera appropriata. E questo perché? Per, come posso dire, quasi lo spirito stesso della carriera militare. Cioè, la carriera militare va per gradi, non a caso si chiamano gradi quelli che i soldati hanno e che, di promozione in promozione, rappresentano la loro carriera. I soldati che nella Prima Guerra Mondiale rivestono il grado di tenenti generali, cioè di comandanti di corpo d'armata o di armata, si sono formati tecnicamente in corsi successivi della scuola di guerra torinese, si sono formati in un'epoca in cui queste armi non c'erano. E quindi si portano dietro, in un certo senso, un handicap, ma scusate, non solo gli italiani, tutti. Si portano dietro un handicap che è quello della loro formazione militare. Così come nella Seconda Guerra Mondiale i comandanti, anche quelli tedeschi che vengono magnificati come i più illuminati, Manstein, Guderian e così via, si portano dietro la loro esperienza e quindi nell'utilizzo dei mezzi, sostanzialmente la guerra aerea e corazzata hanno ancora qualche, diciamo, ruggine che proviene dalle idee precedenti. Quindi se prima c'era l'idea di una guerra di movimento, fondamentalmente, la Prima Guerra Mondiale dice no signori vi siete sbagliati. La guerra si fa stando in trincea e schiacciando l'avversario, con degli attacchi mirati su un punto del fronte dove tu sfondi, allarghi e poi passi. Se arriva la Seconda Guerra Mondiale, André Maginot, il genio dei geni, che aveva combattuto Verdun nella Prima Guerra Mondiale, dice certo, Verdun è il modello di tutte le battaglie, trasformiamo la Francia in una Verdun, costruisce la linea Maginot ed è una guerra di movimento. Cucù. Come dire, in un certo senso, questi errori non sono figli della stupidità, non erano stupidi i generali. Quando io per esempio sento dire Cadorna, macellaio, assassino, Haig, French, Joffre, il più sano alla rogna. Ma cosa pretendevate da degli ufficiali generali che provenissero da quel tipo di formazione, ma non potevano snaturarsi? Chi è che ha introiettato il nuovo modo di fare la guerra? Gli ufficiali subalterni, cioè quelli che si trovavano in prima linea e che constatavano, diciamo, in corpore e vili come funzionava. Quegli ufficiali subalterni a loro volta sono diventati ufficiali generali, ma sono diventati ufficiali generali quando la loro esperienza non valeva più niente. Cito il più famoso di tutti, Erwin Rommel, che alla fine degli anni 30, quando è colonnello comandante della scuola di Potsdam, pubblica un libro, Fanteria all'assalto, che già nel titolo ci dice come Rommel, che poi verrà considerato un illuminato, io avendo poi tradotto, non tradotto, scusate, avendo curato l'edizione del suo diario di Caporetto, non è che lo stimi tantissimo, però dico Rommel che viene considerato un genio della guerra lampo, all'inizio scrive Fanteria all'assalto in cui l'esperienza di cui fa tesoro e che spiega i suoi cadetti di Potsdam è quella della guerra sul fronte dell'Isozio. La sua battaglia tipo è la battaglia di Longarone, dove reparti della Quarta Armata italiana scendevano alla Valle del Piave, più o meno in disordine, lui attraversa il Piave con i suoi soldati, piazza le mitragliatrici e prende, non so io se diecimila prigionieri, è l'azione che gli frutterà il Blauer Max, tanto sospirato, che non gli era stato dato per il matagliure, lui sarà incazzato come un bufalo per questa cosa. Aveva anche mandato al diavolo Strosser, che era il suo comandante. Dicevo, perfino Rommel, che viene indicato come un maestro della guerra veloce, dell'utilizzo dei carri, quando comanda la Panzer Armei in Africa e così via, perfino Rommel si porta dietro questa zavorra ed è normale che sia così. Io, quando spiego le mie stupidaggini ai miei studenti, sono ancora figlio di quello studente che faceva il Sarpi, ahimè, 50 anni fa. Perché è così? Perché siamo fatti così. E pensare che venga una guerra in cui c'è una generazione adeguata a quella guerra è un'utopia. Io dico che qualunque guerra, speriamo che non ne vengano, ma qualunque guerra dovesse mai venire, non saremo mai adeguati a quella guerra, perché saremo sempre, in qualche modo, legati alla nostra memoria precedente. Quindi, la battaglia di Los rappresenta, da una parte, come dire, il trionfo di una serie di sottovalutazioni e supervalutazioni dell'impatto dei nuovi mezzi sulla battaglia. Anche la mitragliatrice è un nuovo mezzo. Non è che la mitragliatrice sia un'arma che c'è da tantissimo tempo. La mitragliatrice tipo Maxim, cioè quella che viene usata dai tedeschi, è una mitragliatrice che esiste dall'inizio del Novecento, come, diciamo, come arma a larga diffusione. Prima c'era il tipo Gatling, cioè la mitragliatrice a manovella, tanto per capirci. La mitragliatrice è un'arma nuova determinante, in senso positivo, della battaglia di Los. I gas, l'utilizzo dei Royal Engineers, la mina, che pure è un'arma che veniva usata anche dagli antichi romani, ma insomma, la mina, nell'utilizzo moderno del termine, sono tutti escamotage tecnologici che però non vengono utilizzati nella maniera corretta. E aggiungo io, fino a tutto il 1916 queste armi non verranno usate nella maniera corretta, proprio perché il 1916 sarà l'anno afflitto da quel fenomeno, vi dicevo, del gigantismo. Cioè, anziché buttare nella mischia, come nel big page qua della battaglia di Los, sei divisioni, ne buttavano 60. Ma non cambiava nulla. Perché dall'altra parte, anziché cinque divisioni della sesta armata tedesca, ce ne erano 50. Non cambiava niente. Per cui, l'esempio proprio più macroscopico di questo errore di valutazione, che forse inizia proprio con la battaglia di Los, consiste nel fatto che le artiglierie pesanti inglesi bersagliano le linee tedesche per una settimana. Il commento alla fine di questo bombardamento dei soldati è, nessuno di là può essere sopravvissuto. Noi faremo una passeggiata di salute, perché dopo un bombardamento del genere non può esserci rimasto un tedesco vivo nelle posizioni di Vimeridge, di Cabaret Rouge, insomma delle colline che sovrastavano il campo di battaglia della Somme. Escono dalle trincee e i tedeschi escono dalle loro gallerie dieci metri sottoterra, mettono le armi in punteria e vi ho detto, in una mattina ne abbattono 50.000. Prevalentemente lo dico prevalentemente irlandesi perché volevano togliersi dai piedi gli irlandesi, perché c'era il rischio concreto di quella che sarà la Easter Eyes, la rivolta di Pasqua irlandese e gli irlandesi erano scomodi. Concludo con un aneddoto che si lega a questo degli irlandesi mandati fuori per primi, vi ricordo che anche a Gallipoli gli irlandesi vengono mandati allo raglio insieme agli Anzac, altra gente che gli inglesi consideravano sacrificabile rispetto ai loro blues e greys. Gli italiani hanno fatto la stessa cosa con i volontari irredenti, cioè i volontari irredenti Scipio Slataper sono stati messi in reparti che venivano schierati in punti particolarmente esposti, Slataper sul Podgora e lì ci lasciavano le penne. Infatti il numero di volontari irredenti Giuliano Dalmati e Triestini e Trentini è statisticamente molto superiore nel 15 alle perdite normali dell'esercito italiano, cioè li hanno mandati a farsi ammazzare perché erano una bellissima cosa ma davano estremamente fastidio. Quindi come posso dire la mia riflessione conclusiva è che tutte le battaglie che noi in questo lungo periodo di tempo, e ringrazio Dario e Domus per l'occasione che mi è stata data, tutte le battaglie che noi osserviamo ci insegnano forse qualcosa dal punto di vista della storia militare, ma ci insegnano credo molto di più dal punto di vista della storia del costume, della storia del pensiero, dall'antropologia della guerra in qualche modo, non solo di chi la combatte ma anche di chi sta a casa, di chi la percepisce e così via. Nel periodo di cui stiamo parlando in cui un poeta come Sorley muore nella battaglia di Loss, negli Stati Uniti e in Inghilterra gli Inklings, vale a dire gli scrittori dilettanti che sono una cosa che da noi non esiste, ma che nel mondo anglosassona era molto diffusa, cioè poeti che pubblicavano le proprie poesie sui giornali in maniera dilettantesca, alcuni bravi, alcuni meno bravi, riempivano le pagine di giornali di poesie dedicate alla guerra, che erano, come dire, che viste tutte insieme ci danno un'immagine proprio del pensiero, chiamiamolo dell'intesa, del pensiero dell'intesa attraverso i vari periodi della guerra. Quando il Belgio viene invaso, le poesie sono tutte quante Davide contro Golia, quando viene invasa la Francia Giovanna d'Arco, la crociata contro gli Unni, tutte queste cose qua. Poi un po' alla volta il tono di queste poesie cambia. Un po' alla volta da queste poesie scompaiono Dio, Patria e Famiglia e vengono, questi valori vengono sostituiti da una sorta di rassegnazione terribile. Le poesie del XVII e del XVIII sono, io ho un appuntamento con la morte, sono quelle le poesie. Crescono i papaveri nei campi di Fiandra fila dopo fila. E uno a uno gli autori di queste poesie scompaiono nella guerra. Scompare McCree, il capitano canadese, autore della famosa, in Flanders Field, forse la più famosa poesia sulla prima guerra mondiale. Scompare Wilfred Owen, che muore una settimana prima della fine della guerra. Scompaiono Seager, Isaac, scompaiono praticamente tutti. Sorley è già scomparso da tempo ed è già entrato nel mito. Ma come lui, tanti e tanti altri giovani, inglesi, francesi, italiani, tedeschi, andranno in guerra convinti di combattere una crociata e alla fine scopriranno che la guerra è prevalentemente questo, un campo di morti. Vi ringrazio.